Come sta andando la preparazione, soprattutto come state vivendo questa esperienza? Diciamo che la stiamo vivendo un po' come la vivono tutti in questo momento. Noi facciamo del nostro meglio per non mollare e per andare avanti. La cosa importante in questo momento è che magari le persone che sono state, che sono risultate magari positive e che ne aspettiamo e che stanno bene e che appunto rientrano quanto prima a far parte, diciamo, ad allenarsi con noi qui al campo. Noi per quello che possiamo fare veniamo, ci alleniamo e cerchiamo di farci trovare pronti appena poi riprenderanno le partite di campionato. Domenica sarà la quinta partita rinviata. C'è un programma molto molto intenso la ripartenza? Sicuramente non sarà semplice perché poi ci aspetteranno una partita ogni tre giorni, quindi il recupero sarà minore e soprattutto riprendere la condizione fisica che stiamo cercando appunto di non perdere, però si sa che comunque la partita quella te la dà. quindi diciamo che noi possiamo solo lavorare nel migliore dei modi per sopperire meglio a quello che poi andremo incontro, diciamo.